Alina Seredova posta una foto con Alessandro Nasi, primo bacio sui social Alina Seredova posta una foto sui social mentre bacia Alessandro Nasi. . Ad attirare lattenzione del gossip nelle ultime ore è stata lex moglie di Gigi Buffon, Alina Seredova. La bellissima modella è sempre stata davvero molto riservata, infatti nonostante sia legata allaffascinante manager di casa Agnelli Alessandro Nasi da circa tre anni, non ha mai reso pubblica la sua vita privata tramite i social. . Oggi, però, ha fatto uno strappo alla regola. . Forse a causa del clima romantico di Firenze, la Seredova ha deciso di postare una foto mentre bacia il compagno sulla guancia, aggiungendo come di Dascalia, cancelletto Florence in love. . La coppia ha festeggiato a Disneyland il compleanno di David Lee. La coppia ha festeggiato a Disneyland il compleanno di David Lee, figlio di Alina Seredova e Gigi Buffon, il quale ha compiuto otto anni il 31 ottobre. A quanto pare, la voglia di far vedere quanto siano felici insieme ha superato la necessità di riservatezza di Alina. Inutile dire che i fan hanno subito riempito la foto postata dalla Seredova di commenti positivi. . Tra i tanti, siete bellissimi!. . . . . . . . . .